Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo I modelli da imitare, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. I modelli da imitare sono i santi che hanno offerto la loro vita e hanno donato un apporto sociale grandioso tramite la carità, gli insegnamenti, gli esempi vitali, i momenti intensi di affetto, le dimostrazioni su ogni cosa che appartenevano appunto alla divina scuola dell'Onipotente. Ecco, persone da imitare, persone da guardare, modelli di vita forte e divini. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo I modelli da imitare. I santi hanno offerto un sacro apporto sociale sacrificando ogni loro momento per infondere passione per l'amore. Sono loro i saggi credenti, i modelli da imitare per rendere sacri i momenti della buona vita lodevole. Sono loro che con tutte le forze pregavano per ottenere dal Signore le sublime riconoscenze per la società lieta di godere delle opere. Sono loro i modelli da imitare per rendere bella e buona la società affinché si possa gridare alla bellezza profonda della carità. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.